salve benvenute benvenuti eccoci qua a questo approfondimento operativo sulla decisione di contrarre siamo nel mondo dei contratti pubblici la decisione di contrarre è il nuovo termine utilizzato dal nuovo codice dei contratti pubblici per indicare il provvedimento amministrativo con il quale si apre o si chiude la procedura di affidamento barra giudicazione perché la decisione di contrarre può essere di due tipi la decisione di contrarre è sante quella che si adotta per avviare la procedura quando la procedura è una procedura di gara allora abbiamo una decisione di contrarre nella quale vengono individuati gli elementi essenziali le regole del gioco per avviare la procedura di gara successiva quindi la si fa all'inizio della procedura e questa porterà poi ad un provvedimento finale che sarà la determina di aggiudicazione decisione di contrarre ex ante determina di aggiudicazione c'è però un altro caso che è quello dell'affidamento diretto perché l'affidamento diretto è un'altra cosa non è una gara non è una procedura di aggiudicazione è una procedura di affidamento allora in quel caso il nuovo codice prevede che la decisione di contrarre sia soltanto alla fine sostitutiva della determinazione di aggiudicazione e prende il nome quindi di decisione di contrarre che io chiamo ex post cioè che avviene dopo aver scelto il contraente aver definito tutti gli elementi quindi decisione di contrarre ex ante decisione di contrarre ex post sulla decisione di contrarre ex ante non ci sono grandi novità nel codice perché era la vecchia determina di contrarre o delibera di contrarre mentre più interessante è l'analisi della decisione di contrarre in affidamento diretto per fare questo vi illustro un modello quindi oggi vediamo un documento un esempio di atto fra l'altro che vi metto a disposizione anche in formato editabile così lo potete scaricare personalizzare perfezionare ricaricare nella pagina nel link che trovate in modo tale da renderlo fruibile anche agli altri migliorandolo questo è il modello che utilizziamo diciamo nella mia amministrazione a seguito del nuovo codice proviamo a vedere da tutti gli elementi fondamentali partendo dalla ovviamente l'intestazione comune di provincia di o città metropolitana o altro ente stazione appaltante determinazione numero del perché determinazione perché se è vero che per il codice dei contratti pubblici il nome da dare a questo atto è decisione di contrarre il contenitore lo strumento amministrativo attraverso il quale la decisione di contrarre viene approvata è la determinazione di contrarre quindi la scusatemi la determinazione dirigenziale quindi non c'è una incongruenza nel chiamare determinazione numero del che è il tipico atto dirigenziale ricordando che tutti gli atti delle procedure di affidamento sono di competenza dell'organo tecnico dirigenti nei comuni dove c'è la dirigenza elevate qualificazioni dove non c'è la dirigenza o responsabili di servizi dove non ci sono elevate qualificazioni quindi la determinazione è il contenitore del contenuto decisione di contrarre questo l'elemento dopodiché l'oggetto io prediligo la indicazione dell'oggetto tripartito che è una metodologia abbastanza classica di indicare l'oggetto sintetico di un provvedimento cioè partendo dal generale al particolare quindi fornitura di certi prodotti per euro più iva con il relativo codice cig secondo elemento informativo e poi decisione di contrarre per affidamento diretto come ultimo elemento informativo dell'oggetto in questo modo l'utente pensando a lo stakeholder colui che è interessato dalla conoscenza di questo provvedimento dobbiamo pensare che l'oggetto sintetico serve per il navigatore in internet che deve capire se gli interessa scaricare o no il file sa di cosa si parla per esempio sa che è una fornitura di un dispositivo medico allora perché è interessato al dispositivo medico oppure interessato a capire quanto spende l'amministrazione certo se euro 100 magari non mi interessa se euro 100 mila mi interessa il codice cig perché l'elemento di tracciabilità cioè consente di vedere tutti gli atti della procedura e poi l'oggetto specifico quindi questa è una scelta poi l'oggetto potete metterlo come ritenete più opportuno ricordatevi che non è autoreferenziale l'oggetto serve agli altri non a noi noi sappiamo il contenuto dopodiché andiamo all'intestazione come detto il la dirigente io suggerisco agli enti di utilizzare una norma rispettosa del genere e quindi il la responsabile di elevata qualificazione eccetera eccetera visti allora qui si può scegliere o tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo che ho già spiegato in altri contesti non è ancora diciamo in questo caso è prematuro ma poi farò anche un percorso su quello la struttura è tradizionale quindi il classico preambolo quindi la prima parte dedicata alle informazioni che ci sono in tutti i provvedimenti dirigenziali almeno quelli adottati da questo questa dirigente quindi l'articolo x dello statuto che prevede la competenza dirigenziale l'atto del sindaco con il quale sono state conferite le competenze dirigenziali e l'atto dirigenziale ad esempio con il quale in questo caso è stata conferita l'incarico di pio o elevata qualificazione nell'ipotesi in cui il responsabile rupp o il responsabile che firma l'atto sia l'elevata qualificazione questo per spiegare che nei comuni dove c'è la dirigenza non è detto che la determinazione di contraria sia a firma del dirigente può essere a firma del responsabile unico del procedimento che di regola è un'elevata qualificazione ma niente vieta che possa essere a firma del responsabile unico del procedimento non è un'elevata qualificazione non c'è alcuna limitazione in questo senso dal nostro punto di vista del traccia di atto che vi presento siamo nell'ipotesi di un dirigente con un'elevata qualificazione alcune determinazioni di affidamento sono firmate da l'elevata qualificazione ad esempio in alcuni enti viene stabilita una soglia quantitativa ad esempio tutte le determinazioni di affidamento diretto sotto i 10 mila euro sono firmate o sotto i 20 mila euro sono firmate dall'elevata qualificazione preambolo dopodiché andiamo a vedere gli altri elementi siccome sto facendo una determina di contraria devo avere le risorse finanziarie quindi ci saranno i riferimenti al sistema di programmazione sistema di programmazione che è dato dal dup dalla nota di aggiornamento al dup dal bilancio approvato o dalla delibera che dispone l'esercizio provvisorio in ogni caso il titolo di legittimazione ha l'individuazione del capitolo di bilancio l'unità di voto e ovviamente il peg che assegna le risorse quindi questi sono i quattro elementi poi c'è chi inserisce soltanto il peg va benissimo perché ovviamente se ho il peg o gli altri strumenti approvati oppure essere più esplicito e inserire tutte queste queste informazioni vista la delibera di giunta con la quale si è approvato il piao perché andare a impegnare delle somme andare a fare degli acquisti significa anche realizzare degli obiettivi di performance diciamo non solo avere la competenza ma spiegare perché si genera valore pubblico attraverso il piao e quindi è un utile suggerimento quello della di citarlo vista la delibera sulla salvaguarda degli equilibri e le variazioni di peg qualora ci fossero quindi nella prima parte che si può anche mettere nel preambolo c'è la parte finanziaria generale poi magari questo impegno è frutto di una variazione di peg che assegna queste risorse visto il regolamento di contabilità importante da citare perché determina diciamo alcune procedure e poi andiamo alla norma che è il decreto legislativo 36 2023 nell'ipotesi in cui si applichi diciamo un acquisto di servizi e forniture ordinario che può essere il decreto 50 2016 come applicabile in virtù del decreto 36 2023 perché siamo in pnrr o siamo in regime transitorio in ogni caso va citato il decreto 36 perché noi oggi possiamo applicare il decreto 50 abrogato ma applicabile solo in virtù del richiamo del decreto 36 2023 quindi il consiglio è partire dal decreto logicamente dal decreto 36 2023 e poi eventualmente citare le norme del decreto 50 premesso che l'unità operativa provvede all'acquisto di arredi e attrezzature per gli uffici comunali in base al funzionigramma quindi si può esplicitare o non esplicitare quindi come mai la competenza di questo ufficio che è pervenuta richiesta dal settore di acquistare certi materiali in un comune strutturato c'è un servizio che si occupa diciamo della centralizzazione degli acquisti ma su input esterno quindi spiegare che non ho deciso io che sto facendo l'acquisto cosa acquistare ma che il settore mi ha chiesto di acquistare un determinato bene servizio forniture attraverso un'autonoma valutazione rilevato che ai sensi dell'articolo 62 del decreto 36 la stazione può procedere autonomamente all'acquisizione del contratto di fornitura essendo inferiore alla soglia senza necessità della centrale di committenza fra l'altro in questo caso siamo stazione appaltante qualificata quindi potremo comunque anche in presenza di centrale di committenza dato atto che a tal fine è stato interpellato l'operatore economico come indicazione del settore il settore mi ha chiesto di acquistare da quel fornitore quel servizio perché ha fatto la sua indagine di mercato quindi a cui si richiama diciamo per relazione si procede all'affidamento diretto con predisposizione della documentazione necessaria per la trattativa diretta che è stata fatta sulla piattaforma mepa alla scadenza è pervenuto il preventivo con il ribasso sulla trattativa diretta il prezzo offerto risulta congruo rispetto ai valori di mercato quindi questa attenzione è un esempio di affidamento diretto raro caso di affidamento diretto puro o quasi cioè ho un fornitore fornitore individuato dal settore di competenza attraverso una propria autonoma indagine di mercato quindi la stazione appaltante attraverso il suo loop non fa altro che avviare la procedura di acquisizione che è sempre su piattaforma telematica ricordo che sopra i 5.000 euro è obbligatorio la piattaforma telematica sotto i 5.000 è obbligatorio la telematica anche senza piattaforma ma per esempio nel nostro caso utilizziamo sempre la piattaforma telematica e quindi siamo in un'ipotesi di affidamento diretto puro dove ho già scelto l'operatore economico non ho fatto una valutazione comparativa fra soggetti ho fatto una valutazione quali quantitativa di congruità del prezzo rispetto all'offerta questo è possibile laddove ho una specificità tecnica quindi ho un ufficio tecnico che ha già individuato il fornitore e siamo in assenza di un mercato concorrenziale quindi è accertato che ci sono le condizioni per non aver necessità di chiedere più preventivi ricordiamo che il nuovo codice consente questa opzione ovviamente motivata in maniera forte quindi era un'occasione per dirvi che ci possono essere casi di affidamento puro anche se è preferibile diversamente richiamato l'articolo 17 del 36 il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua quindi siamo una decisione ex post deve già contenere tutti questi elementi dato atto che senza l'articolo 58 l'appalto dato l'importo non rilevante e quindi già accessibili alle micro piccole e medie imprese non è suddivisibile in lotti ricordatevi in tutte le decisioni di contrarre dovete mettere tre righe cinque righe di motivazione del perché non avete suddiviso in lotti se acquisto mille euro non ha senso suddividere l'occasione acquisto 20 mila euro potrebbe non aver senso suddividere in lotti perché quell'otto è accessibile alle micro piccole e medie imprese in questo caso si trattava di poche centinaia di euro considerato che vista l'entità dell'importo della fornitura per la procedura in questione non sono previsti requisiti speciali di partecipazione quindi non abbiamo previsto un fatturato non abbiamo previsto dei requisiti particolari dato atto dell'avvenuta applicazione al presente procedimento dei principi di risultato fiducia accesso al mercato buona fede tutela dell'affidamento e principi di rotazione ricordiamoci i primi tre sono principi fondamentali inderogabili risultato fiducia e accesso al mercato articolo 1 2 e 3 del nuovo codice come richiamati dall'articolo 4 a cui si aggiungono principi fondamentali come buona fede tutela dell'affidamento principio di rotazione ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura alle condizioni previste nel preventivo per euro oltre l'iva di legge dato atto che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei cam edilizia in questo caso avevamo la fornitura di un mobilio se non ricordo male o l'installazione quindi il richiamo ai cam se pertinente deve essere fatto altrimenti sarà la formula negativa dato atto che per il presente intervento non è necessaria l'applicazione dei criteri ambientali minimi ecco è un esempio per dirvi le i pezzetti di decisione da ricordare di inserire o al positivo al negativo lotti ci sono lotti non ci sono cam ci sono cam non ci sono dato atto che essenzia l'articolo 50 il soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonea l'esecuzione della prestazione contattuale richiesta e individuato mediante informale richiesta di preventivi questo ci consente di evitare le forme di garanzia che avremmo richiesto ma soprattutto di legittimare l'affidamento diretto ricordiamoci il nuovo codice prevede l'affidamento diretto se si dimostra che il soggetto è esperto in materia non si può fare un affidamento diretto a una start up a un neo fornitore quindi deve essere un soggetto che magari non della stessa amministrazione abbia comunque esperienze pregresse nel settore altro requisito previsto dal nuovo codice dato atto che con il presente provvedimento di affidamento diretto in deroga al testo unico degli enti locali sono individuati i seguenti elementi essenziali per l'appalto di fornitura perché l'articolo 192 del tuel diciamo è a una formula leggermente diversa ma poi i contenuti sono gli stessi oggetto di affidamento importo fornitore ragione della scelta del contraente codice shig rilevato da anac che devo acquisire ovviamente e inserire nella determina e suggerimento e anche nell'oggetto vista la disponibilità del capitolo di bilancio per la copertura di spesa in seguito alla variazione di bilancio ecco perché abbiamo citato le variazioni di bilancio la variazione di peg perché questa diciamo nuova disponibilità finanziaria non era nei documenti originari dato atto che sono state rispettate le disposizioni previste nell'articolo 1 450 legge 96 altra norma da citare questa norma mi dice che io posso fare l'affidamento diretto posso fare la giudicazione posso andare sul mercato se non c'è una convenzione consip attiva o il prodotto non rientra fra quelli di obblighi facoltà cioè per i quali ho l'obbligo di attivare la convenzione e quindi questo richiamo è indispensabile altrimenti dovrei motivare il perché c'è una convenzione e perché io esco da questa convenzione dato atto della regolarità contributiva requisito indispensabile per l'affidamento e poi per la liquidazione della spesa quindi non è un requisito diciamo codice degli appalti è un requisito di contabilità rilevato che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dato che l'operatore attestato con dichiarazione sostitutiva di atto in autorità del possesso dei requisiti siamo sotto i 40 mila euro e quindi è possibile presentare l'autocertificazione che sarà oggetto di controllo a campione altrimenti devo dar conto dell'esito positivo delle verifiche quindi o che c'è l'autocertificazione sotto i 40 mila e la soggetta controllo a campione o dell'esito positivo del controllo delle autocertificazioni ricordando che non è più possibile con il nuovo codice procedere ad aggiudicazione o affidamento diretto rinviando il controllo ex post dato atto che la sottoscritta in qualità di soggetto competente adottare il presente provvedimento secondo l'articolo 16 non si trova in conflitto di interessi e nel rispetto del articolo relativo del codice di comportamento ricordiamo che il conflitto di interessi è previsto sia nel nuovo codice articolo 16 decreto 36 sia nell'articolo 6 bis della legge 242 90 comunque sto gestendo un procedimento amministrativo sia nel codice di comportamento quindi devo citare tutti e tre questi provvedimenti con riferimento all'assenza di conflitto di interesse sia attenzione con riferimento al chi sottoscrive in questo caso il titolare la titolare di elevata qualificazione sia eventualmente del responsabile del procedimento e di tutti i dipendenti che sono intervenuti nel procedimento quindi nella decisione di contrarre sono io che devo dar conto di aver a monte effettuato questa verifica è fondamentale non solo con riferimento al firmatario ma con riferimento al ruppo se diverso dal firmatario ai responsabili di fase se diversi dal firmatario e anche ai dipendenti che non firmano non hanno nessun ruolo diciamo sottoscrittore a rilevanza esterna ma che hanno partecipato con funzioni diciamo rilevanti non semplicemente inviando una pec nel procedimento sono tutti elementi importanti fondamentali da dichiarare normalmente tradizionalmente immediatamente prima del dispositivo perché adesso andiamo nel dispositivo che inizia con la parola che dà il nome al provvedimento determina ricordiamo è una decisione di contrarre nel contenitore della determina primo per le motivazioni in narrativa qui ci sono varie regole stilistiche c'è chi il punto primo di ogni decisione o determina da conto che le premesse costituiscono parte integrante quindi determina di approvare le premesse quale parte integrante dell'atto va benissimo qui è diciamo si risparmia un punto perché lo si mette come inciso per le motivazioni in narrativa specificate quindi si richiamano nel dispositivo e poi si dice in vero all'articolo 192 sensi per gli effetti del combinato disposto degli articoli 17,2 50,1 lettera b di affidare la fornitura perché l'oggetto principale punto 1 è affidare la fornitura alle condizioni previste di dare atto che non c'è il conflitto di interessi di dare atto che la spesa è finanziata l'impegno di spesa perché a differenza della decisione di contrarre ex ante che non può avere impegno di spesa perché manca il fornitore manca il quantum preciso qui io ho il fornitore o il quantum preciso e quindi c'è l'impegno di spesa non è necessaria la prenotazione di impegno di spesa quindi esercizio 2023 sto impegnando 2023 su 2023 scadenza obbligatoria principio di competenza finanziaria potenziata avrei potuto impegnare sul 2024 cig missione programma codice di quinto livello capitolo di peg impegno numero di impegno e euro corrispondenti di dare atto della regolarità contributiva ancora in corso di validità di dare atto che il presente provvedimento è efficace avendo l'affidatario attestato con dichiarazione sostitutiva al possesso dei requisiti che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti si procederà a risoluzione del contratto questa può essere una condizione soprattutto nelle decisioni di contrarre ex post dove non sottoscrivi un contratto del proprio ma è uno scambio di lettere commerciali quindi o fai una lettera a contratto dove aggiungi delle clausole oppure le aggiungi nel dispositivo della decisione di contrarre che viene sottoscritto e accettato dalla controparte di dare atto che il rapporto contrattuale si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali quindi la forma della stipula sappiamo che per tutte le ipotesi di affidamento diretto il codice prevede lo scambio di lettere commerciali quindi una volta sottoscritta la determina la si trasmette all'operatore economico e la si fa restituire firmata per accettazione quello è uno scambio di lettere commerciali oppure non restituisce la determina firmata ma una pec dove accetta le condizioni della determina è la stessa cosa che tale atto risulta esente dall'imposta di bollo nuova disposizione la nuova disciplina prevede sotto i 40.000 euro l'esenzione dal bollo per la stipula del contratto e quindi ne diamo atto in questo passaggio di provvedere con appositi separati atti alla liquidazione della spesa quindi una volta eseguita la prestazione riceveremo la fattura elettronica riverificheremo il DURC e procederemo alla determina di liquidazione di dare atto che il provvedimento è soggetto alla pubblicità in amministrazione trasparente l'articolo 37 del decreto 33 e quindi il provvedimento sarà pubblicato anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto 50 perché attenzione dal 1 di luglio al 31 dicembre non trova un'applicazione nelle norme del nuovo codice sulla pubblicità di amministrazione trasparente ma si continua ad applicare l'articolo 29 del decreto 50 poi dal 1 gennaio si appliceranno le modalità del nuovo codice di stabilire che il presente provvedimento sarà esecutivo col visto di regolarità contabile quindi non è immediatamente efficace perché soggetto a visto contabile in base alla normativa appunto del testo unico degli enti locali del 118 del 2011 di trasmettere il presente atto al messo per la fissione all'albopretorio per cui doppia pubblicazione all'albopretorio per 15 giorni poi viene tolto dall'albopretorio e contemporaneamente mentre va all'albopretorio va in amministrazione trasparente ai fini della pubblicità trasparenza quindi vedete anche un affidamento diretto più semplice possibile 200 euro richiede un provvedimento di 5 pagine 11 punti del dispositivo questa è quella che vista dall'esterno può apparire la burocrazia cioè la complicazione degli affari semplici che in realtà è parte dei principi del sistema per il quale noi spendiamo soldi pubblici e quindi nello spendere soldi pubblici dobbiamo dar conto di ciò che il privato non è tenuto a dar conto di come sono arrivato alla decisione se questo modo di esporre, narrare è fluente magari più semplice anche nell'esposizione si capisce qual è il ragionamento logico che ho fatto allora più è efficace l'esposizione vedremo in un'altra occasione come si può ulteriormente semplificare anche la forma grafica della decisione di contrarre attraverso strumenti di semplificazione del linguaggio amministrativo per cui vi ripeto questa modalità che ho preferito usare in questa illustrazione è una modalità semplificata vi ricordo che trovate nel link la possibilità di scaricare l'ODT il formato editabile Word che potete riciclare, riutilizzare per le vostre amministrazioni se lo volete migliorare lo potete migliorare per esempio in questo caso abbiamo omesso il passaggio sull'assenza dell'interesse trasfrontaliero che va citato quindi va aggiunto anche quel passaggio era talmente bassa la cifra che è stata omessa ma è opportuno inserirla anche in questo elemento vediamo se ci sono dei vostri interventi intanto vi do qualche secondo per anche scaricare il link e formulare eventuali quesiti o richieste altrimenti noi ci vediamo di qui a breve se non brevissimo con nuove iniziative e nuove attività di aggiornamento e di formazione benissimo, io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima arrivederci avanti tutta ciao ciao ciao